wiki to learn è una piattaforma aperta per la creazione collaborativa di libri di testo è una piattaforma dove studenti, professori, ricercatori e altre persone che si occupano o che ricevono della didattica si possono trovare per scrivere in maniera collaborativa appunti manuali note fino a farle evolvere e diventare libri di testo wiki to learn si basa su tre principi fondamentali il primo principio è il fatto che ogni materiale deve essere creato in maniera collaborativa e la collaborazione tra le persone deve essere incentivata al massimo questa è per far vivere ed evolvere il contenuto presente in ogni momento e per assicurarsi che sia sempre di qualità il secondo pilastro è l'accessibilità tutti i libri devono essere accessibili in ogni parte del mondo a persone che hanno problemi di salute o persone con problemi economici o persone che potrebbero non avere accesso ai libri tradizionali in ogni modo e il terzo principio è l'efficienza di apprendimento tutto il materiale è studiato ed è presentato per essere appreso nel modo migliore possibile questo vuol dire per esempio che ogni contenuto, ogni singola riga di testo ogni bit presente sulla piattaforma digitale di wiki to learn è anche stampabile e disponibile offline per poterlo studiare nel modo più efficiente la comunità di wiki to learn è formata di soli volontari persone, studenti universitari, ci sono professori, ci sono ragazzi del liceo tutta una serie di persone che volontariamente decidono di condividere la loro conoscenza il nostro motto è infatti il sapere se accresce solo se condiviso grazie a tutti grazie a tutti